ciao raga bentornati sul mio canale youtube oggi vi porto un altro contenuto per gli amanti degli spacchettamenti seriali infatti vi porterò appunto l'apertura che abbiamo fatto in live di alcuni pacchetti tots la liga garantito tra cui i miei due sui miei due account e in più alcuni pacchetti dei ragazzi che abbiamo aperto in live ma vi assicuro veramente di non perdervelo fino alla fine perché fidatevi che è successo vi dico solamente questo è successo nata voto e quindi dovrete vedere la reazione e rimanere incollati fino alla fine io vi lascio alle clip e ci vediamo dopo per i saluti questo intanto sarà il primo big boys tots garantito la liga che andiamo ad aprire sul canale e metterlo apre subito in maniera prepotente che fa d'antipasto anche al mio occhio spagna dai cicci basta sto cazorla che non ce ne frega nino chi è questo è pareco ancora peggio dai ma basta ma basta ma basta che amarezza che amarezza no come su twitch comunque occhio spagna cicci sempre lui solo lui santi cazorla niente pinguino triggerato visibilmente triggerato quindi devo aprire salve box bene io vi dico 5 4 3 2 via come on please 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 let me dream guarda c'ho la mia stessa faccia cazorla oh my god my god my god coppia dc un milione e mezzo ramos va ramos dico carlos 3 2 ve la dico così via come on no cross va beh still 96 still 96 ghillie ci ha preso attitico 4 milioni beuse bioschi intanto è arrivata una potentissima pasta e lenticchie penso sia un chilo e mezzo di pasta ustionante io lo sapevo che il contenuto che ci attendeva era questo raga io lo sapevo raga prediction forza cacau richarlison sulla fascia cacau a tallo d'alglish d'alglish ovviamente ciao henry un'icona può fare una mezzata lo cercino 200k niente certo che sono ancora fidanzato non fate gli infingardi suarez eo campos ebbè buono mannaggia vabbè niente rip carvacal parego parego odegaard è in un pacchetto mega ebbè immaginate in un pacchetto ovviamente dai ci sta taschi mo ti farò uscire qualcosa di decent spero ciao busca grazie per il follow benvenuto figo prime moments ma niente di che come on let's go please give us give us something good dai una bandiera diversa dalle solite pietro a Grazie a tutti. Ragazzi, è successo di nuovo, è successo di nuovo, è successo di nuovo, il messia, proprio lui? Io ho tremato, pensavo fosse Ocampos, ragà, pensavo fosse Ocampos, invece proprio lui, tutto vero? Lionel fucking Messi? Tutto vero, primo proprietario? E niente, ragà, droppeno. Eh... Ci siamo portati a casa, sto messi sull'account del buon Taschino, che credo che aprirà i premi per sempre da me, ma a parte gli scherzi, da poco ho recuperato una PS4 con la quale poter aprire i premi, quindi tanta roba. E niente, io vi saluto, vi ringrazio per la visione di questo video e ci vediamo prossimamente qui sul canale e ogni giorno è live su Twitch. Un saluto, ragazzi. Peace.